Le elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno continua la marcia di avvicinamento dei quattro candidati a sindaco al comune di Pescara. La mattinata di Carlo Costantini, il candidato del centro-sinistra, è iniziata negli uffici di Pescara Energia e del comando della polizia locale. Qui ha incontrato alcuni cittadini che stavano pagando le multe. Costantini ha ribadito la volontà, qualora eletto, di spegnere immediatamente le telecamere sui semafori T-Red perché la priorità è la sicurezza e non fare cassa. Quindi si è spostato davanti il teatro d'annunzio attualmente chiuso perché dichiarato inagibile già dal mese di marzo. Una situazione inaccettabile, ha detto Costantini, per una città in cui la bella stagione, gli eventi e gli spettacoli dovrebbero essere il volano dello sviluppo commerciale e turistico. Costantini si impegna ad una rapida riapertura non solo del teatro d'annunzio ma anche del teatro Michetti. Gianluca Fusilli, candidato della lista Stati Uniti d'Europa, ha scelto di girare per le strade della città e di entrare nei negozi per conoscere chi lavora quotidianamente. In questi ultimi giorni di campagna elettorale, ha dichiarato Fusilli, è arrivato il momento di incontrare le persone una ad una, stringere le loro mani, cercare un dialogo per ascoltare quali sono i problemi più impellenti. Il compito della politica è proprio questo. Nel suo giro cittadino, Fusilli è partito dal centro per poi spostarsi nella zona nord di Pescara. Intensa anche la giornata del sindaco uscente Carlo Masci, candidato del centrodestra, dopo aver partecipato alla presentazione della lista civica Pescara Futura. Per lui si tratta di un piacevole ritorno al passato, visto che l'ha fondata nel lontano 1998, in tarda mattinata ha inaugurato la consegna di una casa confiscata alla criminalità, che una volta sistemata sarà destinata ai senza fissa dimora. Il progetto è nato grazie anche alla collaborazione del comune di Spoltore. L'abitazione potrà ospitare fino a dieci persone, ma la cosa ancora più importante, ha detto Masci, è il percorso delle persone ospitate. Saranno infatti seguite fino a quando non riusciranno a trovare un lavoro per un inserimento completo nel tessuto cittadino. Il candidato civico Domenico Pettinari continua nei suoi comizi itineranti per incontrare i cittadini e recepirne istanze ed esigenze. Oggi è stato a lungo nel tratto del mercato che si trova in Viale Bovio, diversi gli ambulanti che gli hanno esposto i problemi incontrati quotidianamente. Ai residenti e a loro Pettinari ha chiesto di esercitare il diritto di voto, in particolare ai giovani che si recheranno alle urne per la prima volta.